Stai cercando qualcosa di particolare e unico sul gioco di Dauntless? Ebbene, l'insaziabile potrebbe fare proprio al caso tuo. Ciao, sono Danny T, o Cinghiale di Ferro su Dauntless, e oggi ti porterò una guida 2.0 per quanto riguarda questa spada fantastica, esatto, l'insaziabile. Un'arma esotica che potremmo trovare all'interno delle mappe di caccia di Dauntless e forgiare. In questo video ti mostrerò dove poter trovare lo schema per quest'arma e che set sto utilizzando al momento. E ora andiamo avanti con il video. Prima su tutti, dove troviamo quest'arma, o meglio, dove troviamo lo schema. Dirigiamoci al Santuario del Crepuscolo. Una volta caricata la mappa, dovremmo andare dritto. Naturalmente, ignorate qualsiasi creatura dovesse attaccarvi. Il nostro scopo, appunto, sarà quello di trovare lo schema. Arrivati a questo punto, sulla nostra destra avremo una parete rocciosa. E lì a poco, un'insenatura dove potremmo entrare. Andiamo sempre dritto, ma cerchiamo di mantenere la destra. Dopo poco, dovremo nuovamente girare sulla destra. E dopo qualche passo, eccolo lì. Questa strana costruzione che non è altro che lo schema della nostra spada. Lì, non ci resterà che premere A, leggere la piccola storia, ritornare a Ramsgate, parlare con un NPC, e dopodiché il progetto sarà disponibile. Ed ecco qui il set che ho costruito. Naturalmente, partiamo di base con l'insaziabile, che ci garantisce Cacciatore Furioso, più un'abilità unica che sì ci infliggerà danno, ma aumenterà la nostra quantità di rubavita e anche i danni che infliggeremo. Al suo interno troviamo la cella della furia e la cella di adrenalina. La speciale, naturalmente per quest'arma, non potrà essere cambiata, ma la mod sì. In questo caso, io ho scelto Elsa Ricorsiva, ma voi potete scegliere quella che più vi piace. Per quanto riguarda l'omnicella, ho scelto Sangue Freddo, per aumentare la percentuale di rubavita fornita sia da Sangue Freddo che dall'insaziabile. La nostra lanterna sarà Pangar, per avere un'ampia aria di danno e come cella al suo interno energizzata, che ci permette di aumentare molto più rapidamente il contatore tecnica e quindi utilizzare l'abilità speciale della nostra spada. L'elmo eco dell'aldilà, che ci garantisce furia e in più, unito con una cella di sopraffazione. Il petto sarà dell'emberman, che ci dà furia sfuggente, più una cella tempra più 3. I guanti saranno sempre di un emberman, che ci garantiscono tempra, con una cella impulso. Infine abbiamo i piedi dello scrive, che ci garantiscono adrenalina e inseriremo al loro interno una cella energizzata. Per quanto riguarda i bonus, beh, questa armatura si basa su 4 concetti importanti. Il primo è quello di utilizzare furia, perché ogni quavolta subiremo danni, per 15 secondi potremmo infliggere il 20% di danni in più. Questa abilità andrà in combo con l'insaziabile, che infliggendo ogni secondo un danno, ci permetterà di attivare sempre e costantemente furia. Quindi viene da sé che dovremmo cercare di attivare più frequentemente l'abilità unica dell'insaziabile. A questo ci verrà in aiuto energizzata, che ci garantisce il 40% di velocità in più di ricarica della nostra barra tecnica. Naturalmente, per aumentare questo bonus in maniera significativa, dovremmo continuamente utilizzare l'attacco pesante. Questo ci porterà agli ultimi due punti della nostra combo. Utilizzando un attacco pesante, consumeremo stamina. E quindi, come poter utilizzare questo malus a nostro beneficio? Semplicemente utilizzando due particolari celle. La prima cella sarà Tempra, che ci garantisce più 100 punti stamina. L'ultima cella sarà Adrenalina, che ci conferisce un 3% in più di danni per ogni 10 punti stamina mancanti. Naturalmente, come sempre, questa è una mia idea. Poi, sentitevi liberi di modificare questo set, o addirittura non giocarlo e giocare tranquillamente altro. Siete liberissimi, questa è una mia idea, e mi piace condividerla con voi. Se pensate, però, di modificare questo set, che ben venga. Ma, mi sento di darvi un consiglio. Cercate di non utilizzare, come omni-cella, Redi Vivo. Quando attiveremo Redi Vivo, non potremo guadagnare punti vita da qualsiasi fonte, che sia data sia dalla nostra arma, che da qualsiasi altro supporto. Ciò, sì, ci permetterà di aumentare i nostri danni, ma ci renderà parecchio vulnerabili. Se hai trovato questo video interessante e utile, ti consiglio anche di vedere altri miei video sul mondo di Dauntless. E' da Danny Tio, Cinghiale di Ferro è tutto, e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video Slayers.